la transizione ecologica è ormai un imperativo se non vogliamo rischiare di trasformare il pianeta in un luogo ostile soprattutto per le generazioni più giovani come fare però a cambiare tutto il nostro sistema di fornitura dell'energia di consumi di produzione abbiamo bisogno di una nuova economia che sia sostenibile ma spesso sentiamo dire che la sostenibilità costa cara ecco qui è proprio un corso dove si impara a capire che forse i costi e i benefici sono molto spostati sulla transizione ecologica che non sul mantenere tutto così è semplicemente una questione di tempo rischiamo di pagare i danni tutti dopo ecco come allora bisogna cercare di mettere insieme un investimento negli anni attuali in cui abbiamo ancora un po di tempo per prevenire il problema ecologico per avere un pianeta ancora vivibile è una vita degna di essere vissuta per tutto il futuro che verrà